La quadra della città di Agrigento. Ripartire da colui che è stato il suo braccio destro nella fase iniziale del progetto sperimentale, innovativo e vincente che metteva la città al di sopra dei partiti. Per provare a bissare il successo del 2007, Marco Zambuto tende nuovamente la mano a Piero Luparello. Nella lettera agli egregentini, il sindaco uscente di Agrigento rivolge un accorato appello all'uomo che 5 anni addietro gli è stato accanto ed ha creduto nel progetto di rinnovamento politico della città. Zambuto chiede a Luparello di mettere da parte l'amarezza, superare le incomprensioni e ritrovare voglia ed entusiasmo per ripartire insieme. Zambuto ammette, anch'io per fare qualcosa per aggregento ho commesso degli errori di valutazione che però non sono commisurabili a quelli commessi da coloro che avrebbero dovuto e potuto fare certamente di più. Un appello personale che rivolgo al dottore Piero Luparello. Nella consapevolezza che in questi anni difficili si sono anche fatti errori di valutazione, che anche io ho fatto errori di valutazione che però sono state sempre errori che avevano in fondo una buona fede e che quindi coprono qualunque divergenza vi è potuta essere ma che non ha mai scalfito i rapporti personali. Allora questa città bisogna recuperare concordia, bisogna recuperare le migliori energie, le migliori risorse che hanno voluto e vogliono spendersi per questa città. E allora ecco il mio senso di un appello accorato. Io in questi anni mi sono dedicato completamente all'amministrazione della città. E forse è mancato il momento in cui dedicarmi al momento proprio politico ma perché se non affrontavamo i problemi e non affrontavamo l'emergenza questa città rischiava di crollare. Siamo stati e sono stato 24 ore su 24 impegnato nell'affrontare l'emergenza. Nell'arco di una stessa giornata sono capitate 3, 4, 5 emergenze. Oggi la situazione è diversa rispetto a 5 anni fa. Oggi la situazione è quella di una città che è uscita fuori da un tunnel che guarda avanti con fiducia, con speranza, che ha i progetti presentati. Già tanti cantieri stanno venendo fuori alla luce, sono il frutto di un lavoro di questi 5 anni. Quindi abbiamo bisogno di energie, abbiamo bisogno di nuovi impegni perché è una città che oggi finalmente dopo aver passato momenti assolutamente difficili può guardare avanti con rinnovata fiducia. Da Zambuto un appello all'aggregazione. Il sindaco uscente si rivolge agli agregentini, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato affinché ritrovino lo spirito di 5 anni addietro per consentire ad aggregento di proseguire il progetto iniziato e portato avanti sostiene Zambuto in una situazione economico-finanziaria insostenibile lottando e cercando di coinvolgere il sistema politico sia di destra che di sinistra per il bene di aggregento. Oggi la mia, credetemi, più grande soddisfazione è quella di presentarmi al corpo elettorale della città di aggregento con le mani pulite, con le mani pulite che in questi anni hanno affrontato i problemi si sono anche potute sporcare perché i problemi li abbiamo affrontati a tanti però oggi si presentano con le mani pulite innanzi alla mia città con grande umiltà e soprattutto con la coscienza di chi ha fatto tutto quello che doveva fare sicuramente si poteva fare di più, sicuramente, dicevo, si sono potuti fare degli errori però vi è un grande amore che ho voluto dare alla mia città e alla quale voglio continuare a servire.